Il sindaco Anna Maria Casini ha firmato l'ordinanza che dispone l'obbligo di utilizzare le mascherine anche all'aperto fino al 18 luglio prossimo, in particolare nel centro storico e nelle orari di punta di maggiore affluenza, in cui è più facile formarsi di assembramenti anche di natura spontanea o occasionale. Tali circostanze, se non ben gestite, potrebbero causare un incremento di contagi, vanificando i risultati conseguiti fino ad oggi. Da parte delle forze dell'ordine proseguirà negli orari più sensibili alla movita un controllo specifico in linea con quanto accaduto negli scorsi mesi. Abbiamo voluto fare un'ordinanza per cristallizzare una disposizione già prevista dal Ministero della Salute, cioè quella di portare la mascherina nelle aree in cui c'è assembramento. Pertanto in zone specifiche della città, cioè nel centro storico e in orari, quindi dopo le 18 e nei giorni in cui si anima in maniera particolare, proprio le vie di corso video e delle piazze limitrofe, abbiamo fatto questa ordinanza per obbligare l'uso della mascherina. Questo al fine di prevenire un possibile ulteriore aumento dei contagi, visti i numeri che negli ultimi due o tre giorni dalla prevenzione, dalla ASL, sono pervenuti e che indicano quindi una recrudescenza del virus. Si tratta di un provvedimento che introduce alcune azioni restrittive e che si è preso necessario in considerazione dell'aumento dei casi positivi in città, adottato di concerto con le autorità competenti, secondo un criterio di gradualità, al fine di contenere il diffondersi del contagio, salvaguardando anche la ripresa delle attività commerciali del centro storico. C'è preoccupazione per questo evento, diciamo, inatteso? Beh, in questo momento diciamo che la situazione non è particolarmente preoccupante, ma proprio perché vogliamo assolutamente evitare che il virus possa riprendere piede e quindi possa vanificare proprio tutti gli sforzi fatti finora e soprattutto compromettere una stagione che sta ripartendo anche a favore dell'economia, riteniamo che oggi la prudenza sia l'imperativo categorico. I ragazzi chiaramente dopo un anno così difficile in questi giorni hanno diritto ad avere un po' di svago, ma questo non significa che non lo debbano fare in sicurezza. Le regole ci sono, vanno rispettate e questi campanelli di allarme ci devono riportare all'ordine, diciamo, cioè metterci nelle condizioni di valutare bene i rischi e di provvedere con un senso di responsabilità ad un comportamento adeguato.